La DDD, meglio conosciuta come Malattia Depositi Densi, colpisce 2-3 persone ogni milione di abitanti. L'iniziativa dell'associazione Progetto DDD riunisce un gruppo di genitori con i figli colpiti da questo raro morbo e che per finanziare gli studi su questa rara malattia, anche quest'anno hanno organizzato un concerto di musica classica per martedì 22 maggio al Conservatorio di Milano, ma anche risottate per 150 persone. 8 anni fa, quando mio figlio ne è stato colpito, ho dovuto girare l'Europa e l'America prima di incontrare un medico che se ne stava occupando e arrivare a una diagnosi. Un banale mal di gola, un otite, una tosse trascurata possono far impazzire il sistema immunitario a spese dei reni e portare a un'insufficienza renale e alla necessità della dialisi, sottolinea il presidente dell'associazione Fabrizio Spoleti. L'associazione si avvale dell'aiuto concreto di molti amici che credono nel progetto, tra questi è Luca Buratto, giovane pianista milanese che martedì darà il suo contributo esibendosi nel Conservatorio alle ore 21 all'interno dell'evento Un Piano per la Ricerca.